buongiorno a tutti oggi parleremo di tre aree molto importanti su cui dobbiamo lavorare fin da subito la prima sicuramente da curare è la tua presenza online si la presenza online è importantissima è la tua carta di identità digitale è la cosa che dobbiamo curare come primo step il secondo step sicuramente quello della ricerca dei nuovi clienti della ricerca di quale sia il tuo pubblico giusto per veicolare velocemente il tuo prodotto il tuo servizio non possiamo sparare a bomba nel mercato dobbiamo mirare dobbiamo creare una fetta di mercato la terza area quella della promozione quella che innesca sicuramente la conoscenza quella che fa diventare il tuo consumatore da inconsapevole a consapevole da inconsapevole che esisti a consapevole che esiste è un prodotto fantastico molto spesso noi imprenditori facciamo un errore e è quello di pensare a vendere 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 non pensiamo a fidelizzare non pensiamo a vendere nel tempo al cliente non pensiamo a premiarlo non pensiamo a farlo sentire importante ricorda una cosa il tempo passa e tu stai perdendo soldi io sono massimo cardoni e sono un consulente nel digital marketing e uno specialista nel settore del digitale ti aspetto e